Musica Io e i miei soci siamo veramente orgogliosi del lavoro che fanno i nostri collaboratori. Stanno facendo delle cose che noi ovviamente non sappiamo fare, capiamo benissimo quello che fanno e ci mancherebbe altro, ma sono loro che risolvono problemi, sono loro che parlano con i clienti, sono loro che in ogni momento rappresentano TechEurlab. Ecco, credo che oggi l'orgoglio, il senso di appartenenza a un'azienda possa veramente dare quel qualcosa in più a livello anche di tranquillità personale, di relazioni e tutto sommato anche di coesione sociale, una coesione sociale all'interno dell'impresa, ma che poi viene anche esportata nelle famiglie dei nostri collaboratori. Ed è questo un altro grande valore, il poter creare coesione sociale. Sono molto contento della partecipazione perché praticamente tutti i collaboratori sono venuti con le loro famiglie e quindi questo mi rende molto felice perché insomma una giornata aperta per le famiglie è importante che ci siano. E questo penso che sia l'aspetto positivo delle imprese emiliane, delle piccole imprese. Gli imprenditori e le maestranze hanno un cuore. A volte presi dalla frenesia della quotidianità del lavoro, dove da quando varchi la soglia fino alla smarcatura del cartellino è veramente molto spesso sempre una corsa continua. Non hai la possibilità di goderti appieno quella che è il clima aziendale, l'atmosfera, il living. Trovarsi fuori dall'ambiente di lavoro con i colleghi che già all'interno della vita stressante e lavorativa è una piccola comunità, allargato l'ambiente familiare, poteva solo essere quasi scontatamente un successo. Sono belle queste esperienze perché ci si trova da amici e non da colleghi e quindi è sempre bello. E l'affluenza è molto positiva. Aspettarselo no perché tutte le volte è diverso. Sono bravi a organizzare questi eventi e tutte le volte è unico. La cosa che a me ha fatto più piacere è il fatto che siano venuti davvero anche con i figli, i genitori che mi sono venuti a dire che è stato bellissimo conoscere i colleghi dei loro figli. Questa per me è stata la cosa più bella della giornata. È stata una bella esperienza, mi piace stare con questi ragazzi e mi sento veramente in famiglia. Non per niente ho tutta la famiglia all'interno del laboratorio, anche i due ragazzi, quindi sono molto coinvolta. Grazie a tutti.